Salve a tutti, rieccoci a un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come attivare bluetooth sul pc, quindi come attivare bluetooth sul nostro computer. Se avete un portatile è facile che il vostro portatile abbia al suo interno bluetooth, invece se avete un fisso è probabile che non avete bluetooth integrato. Per avere bluetooth integrato sul fisso vi conviene comprare una chiavetta bluetooth che vi lascerò in descrizione qua sotto al video. Partiamo con la procedura come attivare bluetooth sul nostro computer, fisso o portatile che sia. Andiamo sulla barra della ricerca se avete windows 10 qua in basso a sinistra e clicchiamo, scriviamo bluetooth. Andiamo qua, impostazioni dei dispositivi bluetooth è di altro tipo, clicchiamo. Come vedete il bluetooth è spento, lo attiviamo, poi clicchiamo qua aggiungi dispositivo bluetooth e altro tipo, clicchiamo ancora su bluetooth. In questo momento parte la ricerca. Se non trovate il vostro dispositivo, esempio un telefono, o è collegato ad un altro dispositivo come delle cuffie bluetooth o qualcos'altro, o se no il telefono non è trovabile. Dovete andare sulle impostazioni di bluetooth e fare visibile. Per questo video direi che è tutto, io vi ringrazio, vi chiedo ancora di seguirmi su youtube. Edward Simoni, un saluto.